Siamo a San Romolo praticamente all'entrata del sentiero delle creste qua davanti a me adesso risaliamo circa 150 metri e andiamo a vedere il collegamento diciamo tra le creste e la variante è un vecchio tratto invece che fare l'asfalto uno passa direttamente di qua senza fare l'asfalto arriva direttamente sulla variante andiamo a vedere com'è dopo un 150 metri circa ci sono andati qua di qui sarebbe l'arrivo della mulattiera che porta alla stazione di Bignone e l'arrivo del sentiero a scoglio dei 40 di lì sulla sinistra appunto si prosegue presso il tiro a creste per andare a scogli grossi 5 stelle eccetera invece noi saliamo e andiamo dritti e andiamo a vedere appunto il collegamento con la variante e le Grazie a tutti. 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 Ottimo. Siamo sulla variante. Bene. Adesso invece che proseguire a destra torniamo di qua a sinistra a San Romolo. Ciao. Ciao. Ciao.